Un anno di amministrazione della città di Marsala. Abbiamo tracciato il bilancio con il sindaco Alberto Di Girolamo, insediatosi proprio lo scorso giugno e oggi alle prese con i numerosi problemi che la città presentava, non ultimi quelli di natura finanziaria, e con il programma elettorale cui sta dando seguito con abnegazione e costanza realizzato già in alcuni punti prioritari. Cosa è stato fatto a Marsala? Dalle incompiute finalmente ultimate alla manutenzione necessaria per le strade, alla firma del contratto per il porto privato, ce lo racconta lo stesso primo cittadino nell'intervista realizzata ieri a Palazzo Municipale. Io credo che abbiamo fatto tantissimo, perché noi ci eravamo prefissati di lavorare nella massima trasparenza e nella massima legalità e di portare a teme la maggior parte delle opere pubbliche iniziate e mai finite, io dico per una filosofia diversa, per non dire altro, perché prima la logica era quella di fare opere pubbliche che poi se fosse portata a teme o fruibile poco importava. Il monumento ai mille era stato iniziato circa 30 anni fa e passa forse 30 anni fa, la prima pietra aveva messo l'unevole craxi, non so quante soldi erano state spese e noi siamo riusciti a portarla a teme, anche gli altri ci hanno lavorato attenzione, noi abbiamo avuto il coraggio, io soprattutto e tutta l'amministrazione, quei fondi per il ristoro della guerra libica che hanno dato al cumulo di Marsala potevano spendere per fare delle feste, per farci degli amici, questo era messo nel programma di portare a teme le opere pubbliche, ma il palazzo Grignani, il palazzo Grignani avevano speso un milione e mezzo, forse due milioni per trasformare quel palazzo, uno dei palazzi antichi e più belli della città di Marsala del 1500, in una pienacoteca. Il verde sicuramente è un po' meglio rispetto a prima, così come le strade, stiamo rifacendo una parte delle strade, ma poi il porto, il porto era stato bloccato anche là per una diatriba tra pubblico e privato, tra il sindaco precedente e chi aveva presentato il progetto del porto privato, noi abbiamo sbloccato, perché io avevo sempre detto da segretario, quindi da segretario del PD, a prescindere da ogni cosa, l'importanza che si faccia il porto a Marsala, perché il porto a Marsala, che significa investimento di circa 60 milioni, significa lavoro per decine o centinaia di persone e poi cambia l'economia della città. E come risponde il capo dell'opposizione Massimo Grillo a questo primo anno di attività della giunta di Girolamo, cosa contesta e cosa avrebbe fatto in maniera diversa per lo sviluppo di Marsala? Glielo abbiamo chiesto ieri e ci ha risposto così. La buona amministrazione ha bisogno anche di una guida in grado di tener conto degli aspetti di carattere politico, delle esigenze, delle domande, di cui magari qualche tecnico in alcune occasioni non ha tenuto nella dovuta e giusta considerazione. Quindi partendo da questi giardini, continuando con quelle piccole cose che sono state fatte e che riconosco, ma sono purtroppo soltanto queste che ricordo, io voglio cominciare dalle cose positive parlando dell'amministrazione di Girolamo, ahimè devo considerare anche questi aspetti, e cioè gli aspetti di opere incomplete, abusive, non sanate, che non rispettano le regole più elementari della salvaguardia dei cittadini. Nella giornata di ieri avevamo anche contattato il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Antonio Angileri, per ascoltare una sua analisi del primo anno di attività della Giunta Marsalese, ma Angileri ci ha riferito di non essere autorizzato dal Movimento a rilasciare dichiarazioni e pertanto non abbiamo sue dichiarazioni in merito.